Tommaso Navarra torna alla guida del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, decisione arrivata dal Consiglio di Stato che ha di fatto ribaltato il pronunciamento del Tare sulla legittimità dell'atto con cui a giugno l'allora Ministero della Transizione Ecologica aveva posto fino al mandato quinquennale del Presidente. Per il Ministero della Transizione Ecologica il mandato di Navarra era decaduto con la fine dell'emergenza Covid lo scorso 31 marzo e la posizione di Navarra non rientrava nella fattispecie di proroghe previste dalla normativa emergenziale della pandemia. Ma il Consiglio di Stato si è espresso diversamente. Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa le richiamate proroghe Opelegis hanno comportato prima la proroga degli organi e poi con il secondo decreto legge citato il prolungamento della durata incarica e con essa del mandato di coloro che protempore ricoprivano l'incarico. La scelta del ricorso di Navarra è risultata idonea al Consiglio di Stato che a differenza di quanto stabilito nel primo grado di giudizio ha ritenuto illegittimo l'atto con cui il Ministero ha di fatto indicato l'uscita dall'ente parco. L'ordinanza che lo rimette in sella fa riferimento sia alle disposizioni anti-Covid che al cosiddetto decreto semplificazioni varato l'anno scorso dal Governo. Questi due provvedimenti, spiega il Consiglio di Stato, hanno comportato prima la proroga degli organi e poi il prolungamento della durata incarica e con essa del mandato di coloro che protempore ricoprivano l'incarico. Secondo il Supremo Collegio della Giustizia Amministrativa, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero, in base alle disposizioni richiamate non risulta possibile distinguere tra scadenza naturale del mandato, proroga del mandato, proroga dei termini e proroga degli organi.